salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto qui c'è la clacce smeraldo e qui abbiamo il portafogli portacarte portamonete smeraldo ho fatto un coordinato col punto nido d'ape e se qui l'abbiamo visto lavorato in tondo qui vedremo questa lavorazione a pannello quindi servirà anche come apprendimento di questo bellissimo punto vi faccio vedere il portafogli portacarte guardate ideale per mettere le vostre carte e i vostri soldi ma anche per i vostri effetti che volete portare soprattutto dove vi serve un portafogli piccolo e da inserire magari in una pochette piccola perché come sapete quest'anno si usa tantissimo si usano queste piccole borse e che richiedono dei piccoli portafogli guardate un po prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi vorrevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina facebook la mia pagina instagram e tiktok e lì cercherò con delle storie dei post e di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollicello in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cordino swan black verde lo lavorerò con uncinetto numero 3 poi avrò bisogno filo dello stesso colore o eventualmente filo di nylon e ago una chiusura e delle forbici prendiamo il cordino e l'uncinetto e facciamo un cappietto lo stringiamo e qui iniziamo a lavorare 15 catenelle lavorate le nostre 15 catenelle aggiungiamo una catenella e iniziamo a lavorare girando guardate qui c'è la catenella ben visibile girandolo un pochino ci sono queste queste asoline dobbiamo prendere queste quindi qui dove ci troviamo entriamo nella prima solina rialzata che ci ritroviamo e lavoriamo una maglia bassa entriamo in quella successiva e lavoriamo sempre delle maglie basse in tutte queste asoline quindi mettendo la catenella girando leggermente la catenella scusate dobbiamo lavorare in tutto 15 maglie basse entriamo guardate prendiamo sempre questa solina lavorate le 15 maglie basse ci ritroviamo così prendiamo il metro misuriamo e siamo a 9 cm questo è il il metodo per misurare la larghezza che si vuole perché solo con le catenelle può ingannare di qualche centimetro poi con la lavorazione facciamo una catenella voltiamo il lavoro e qui andiamo a lavorare delle semplici maglie basse su maglie basse entriamo mi raccomando nel primo punto che abbiamo a disposizione qui abbiamo la catenella dobbiamo entrare in questo punto facciamo la maglia bassa e lavoriamo righe di andata e ritorno di maglie basse sempre rialzandoci all'inizio con la catenella facciamo questo per un tot di giri e tenendo conto della piegatura di quanto vogliamo il nostro portacarte portafogli largo quindi lungo scusate quindi basta fare un po di giri pieghiamo il lavoro su se stesso e se ci soddisfa la dimensione ci possiamo fermare io poi vi dirò esattamente quanto quanti centimetri mi sono rialzata io quindi lavoriamo righe di andata e ritorno di maglie basse per un tot e ci rivediamo alla fine ho lavorato guardate questo pezzo e mi sono resa conto della dimensione piegando in due il mio lavoro quindi questa lunghezza a me va bene quindi questo come dimensioni sia per larghezza e sia per lunghezza potete decidere tranquillamente voi lo potete fare più grande più piccolo più lungo più largo vi potete comunque lo potete fare a vostro piacimento io vi dico quanto l'ho fatto lungo ed è 17 centimetri ora dobbiamo fare la lavorazione che avete visto in anteprima del punto nido d'ape quindi arrivati a questo punto iniziamo con la lavorazione della patellina iniziamo la lavorazione del punto nido d'ape dopo aver fatto la catenella per voltare il lavoro entriamo direttamente nel primo punto che ci ritroviamo che è questo proprio al ridosso della catenella e facciamo una maglia bassa nel punto seguente faremo una maglia bassa allungata prendendo la base del punto stesso quindi tiriamo e la facciamo lunga maglia bassa normale nel punto successivo maglia bassa allungata nel punto seguente e alterniamo maglia bassa e maglia bassa allungata fino ad arrivare alla fine della riga terminiamo con una maglia bassa abbiamo terminato la prima riga facciamo una catenella e voltiamo il lavoro qui ora queste righe poi si ripeteranno durante la lavorazione facciamo una maglia bassa qui proprio nella prima maglia che ci ritroviamo qui ripetiamo qui ripetiamo una maglia bassa e qui abbiamo le costine del punto V lavorato quindi della maglia bassa allungata lavorata nel giro precedente prendiamo la costina di sinistra con la prima dall'altra parte e facciamo una maglia bassa qui al centro entriamo e lavoriamo una maglia bassa costina e costina da una parte dall'altra e lavoriamo una maglia bassa entriamo al centro e lavoriamo sempre la maglia bassa normale costina e costina maglia bassa qui al centro maglia bassa normale e continuiamo così fino ad arrivare alla fine arrivati qui abbiamo fatto l'ultimo intreccio entriamo qui al centro facciamo la maglia bassa e entriamo nell'ultimo punto e lavoriamo sempre la maglia bassa come abbiamo fatto all'inizio una catenella per voltare il lavoro e voltiamo qui ci ritroviamo con il retro del lavoro quindi la parte dietro in questa riga dobbiamo fare le maglie basse con le maglie basse allungate e dobbiamo lavorare precisamente guardate vi faccio vedere la lavorazione questo punto questo 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 e questo che poi corrispondono se io entro in questo punto corrisponde alla parte centrale del punto v precedente quindi della riga precedente cominciamo la lavorazione subito con la maglia bassa allungata guardate qui abbiamo il nostro si vede il gruppettino quindi entriamo direttamente qui sotto prendiamo la maglia e facciamo la maglia bassa nel punto successivo lavoriamo una maglia bassa normale nel in quello seguente qua abbiamo la nostra il nostro foro che si vede guardate e dall'altra parte ci ritroviamo al centro del punto v quindi entriamo ci prendiamo la maglia la maglia bassa allungata nel punto seguente una maglia bassa entriamo qui ci lavoriamo quella allungata nel punto successivo la maglia bassa e continuiamo così fino ad arrivare alla fine alla fine della riga dobbiamo lavorare come abbiamo fatto all'inizio entriamo qui la maglia bassa allungata cercate di prendere il punto precedente e non farla andare fuori nel bordo così facciamo una catenella e voltiamo il lavoro e ci ritroviamo subito con la nostra con la nostra maglia bassa allungata guardate quindi il primo punto in assoluto dobbiamo lavorare una maglia bassa dopodiché prenderemo asolina e asolina le due asoline così e così direttamente e lavoreremo la nostra maglia bassa qui al centro entriamo e lavoriamo la maglia bassa asolina qui cercate di sistemare man mano le ecco le maglie lavorate però poi con la lavorazione vi posso assicurare che si sistemano e continuiamo a lavorare a intrecciare le asoline e ad alternarle con la maglia bassa lavorata al centro così maglia bassa maglia asoline maglia bassa asoline maglia bassa al centro e l'ultimo intreccio di asoline prendiamo facciamo la maglia bassa e alla fine nel primo punto lavoreremo la maglia bassa così una catenella e possiamo voltare il lavoro guardate già si sono intrecciati i punti voltiamo il lavoro qui abbiamo subito la maglia allungata quindi iniziamo con una maglia bassa qui dobbiamo fare la stessa lavorazione dei giri precedenti guardate abbiamo questi buchettini che dobbiamo lavorare con le maglie basse allungate quindi entriamo nel primo che abbiamo a disposizione sotto guardate dall'altra parte entriamo al centro del punto V prendiamo il filo e lo facciamo passare il prossimo punto da lavorare è la nostra maglia bassa normale entriamo qui prendiamo il filo e lo facciamo passare maglia bassa normale e continuiamo così per tutta la riga arrivati alla fine lavoriamo l'ultimo punto V quindi l'ultima maglia bassa allungata è la maglia bassa normale una catenella e voltiamo il lavoro guardate si sono intrecciati perfettamente negli spazi tutti i punti che ora andremo a intrecciare quindi qui a questo punto dobbiamo lavorare una maglia bassa seguita da un'altra quindi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto nella seconda riga due maglie basse e poi intrecciamo i primi le prime due costine poi la maglia bassa al centro e l'intreccio e man mano ripetiamo questi giri quindi le righe si vanno a ripetere in base a quanto lo dobbiamo fare dobbiamo fare alto il lavoro si vanno poi a ripetere tutte le righe quindi qui facciamo la maglia bassa seguita da un'altra maglia bassa e poi l'intreccio maglia bassa al centro intreccio maglia bassa al centro intreccio terminiamo questa riga e poi ricominciamo come abbiamo fatto nelle righe precedenti fino a terminare la nostra patillina vi faccio vedere l'inizio di ogni giro così poi lo farete tranquillamente da soli maglia bassa maglia bassa primo intreccio maglia bassa al centro e continuiamo così con intreccio maglia bassa fino alla fine abbiamo terminato con due maglie basse facciamo una catenella voltiamo il lavoro e qui guardate ve ne accorgete subito che qui si è creato si sono creati i nostri gruppetti quindi già dobbiamo partire subito con una maglia allungata entriamo direttamente in questo punto ci tiriamo il filo poi facciamo una maglia bassa e sempre qui che poi va a corrispondere dall'altra parte facciamo quella allungata e continuiamo in questo modo nel giro successivo partiremo con la maglia bassa e subito con l'intreccio e via di seguito quindi ci possiamo rivedere tranquillamente alla fine della lavorazione ricordatevi che chiudendo il nostro portacarte portamonete guardate dovete arrivare all'incirca qui poi lo potete fare a vostra scelta lo potete fare infino qui alla base oppure un pochino più in sopra quindi continuiamo a fare questi pochi giri che ci restano e ci rivediamo quando l'abbiamo terminato ho lavorato il mio pezzetto di punto nido tape guardate vi faccio vedere ho lavorato 6 centimetri e vi faccio vedere questa è la parte retro come vedete è anche bella vedersi quindi ideale per fare questo tipo di progetto e il portafogli portacarte viene così quindi mi fermo a questa lunghezza mi raccomando l'ultimo l'ultima riga deve essere quella dell'intreccio delle maglie così viene il punto completo e ora dobbiamo iniziare a fare il contorno con cucitura quindi da questo punto qua senza tagliare il filo facciamo una catenella e iniziamo a lavorare questa parte laterale ci dobbiamo inserire direttamente guardate qui l'angolo nella prima solina questa qua rialzata che vedete così faremo facciamo un punto bassissimo faremo l'angolino un pochino arrotondato poi ci inseriamo qui nella parte sotto sempre facendo maglia bassissima qui nella parte della solina maglia bassissima qui andiamo a recuperare il punto sotto questo qui la solina sotto sempre facendo una maglia bassissima lavoriamo comunque tutti i punti che abbiamo a disposizione cercando di non far venire il lavoro né tirato né troppo pieno quindi prendere dobbiamo prendere proprio i punti di ogni riga qui il punto lo recuperiamo nella parte sotto recuperiamo il punto e facciamo la maglia bassissima qui dove c'è la solina nella parte sopra così facciamo così maglia bassissima qui andiamo nella parte sotto avete visto e ora siamo arrivati entriamo con maglia bassissima nella prima riga di maglie basse così qui mettiamo l'altra parte in corrispondenza quindi pieghiamo in questo modo e la mettiamo in corrispondenza all'ultima alla riga entriamo nel primo punto con l'uncinetto cerchiamo ora di lavorarci pure la solina la codina scusate prendiamo il filo lo portiamo all'interno di tutti e due punti con maglia bassissima così ora facciamo una catenella prendendo una solina da una parte e dall'altra e facciamo una maglia bassissima quindi facciamo una piccola decorazione nella parte laterale catenella prendiamo una solina all'interno e maglia bassissima una catenella prendiamo tutte e due le asoline da tutte e due le parti facciamo l'unione con maglia bassissima una catenella maglia bassissima una catenella andiamo nel punto successivo diciamo quello che abbiamo fatto nella parte laterale i punti che abbiamo preso li dobbiamo prendere anche qui nella cucitura e verrà questo effetto continuiamo ormai fino alla fine né qui siamo all'ultimo punto prendiamo le due asoline finali e facciamo la maglia bassissima abbiamo terminato la lavorazione possiamo tagliare il filo questo è quello che risulterà dalla parte laterale cucita cucendo le due parti ora tagliamo il filo lo sfiliamo e con un ago o con l'uncinetto stesso lo facciamo passare o qui nella parte sotto io farò così nascondendolo fra le maglie in caso magari potete utilizzare anche un uncinetto più piccolo per fare questo tipo di lavoro facciamo passare in altre maglie così lo portiamo all'interno qui così tagliamo prendiamo un accendino bruciamo il filo ecco e lo attacchiamo direttamente rimettiamo tutto a posto e questa è una parte già completa ora dobbiamo fare l'altra la lavorazione sarà uguale quindi faremo l'inizio insieme e poi continueremo da soli l'inizio in questo caso si deve fare da questa parte perché dobbiamo lavorare nel dritto del lavoro quindi abbiamo chiuso prendendo le ultime due asoline e inizieremo prendendo le ultime due asoline da una parte e dall'altra così facciamo passare il filo facciamo una catenella questa è la codina ora ce la lavoriamo e prendiamo come abbiamo fatto facendo la parte la prima parte facciamo sempre catenella e maglia bassissima prendendo da una parte e dall'altra così arrivati a questo punto qua lavoreremo solo maglie bassissime fino ad arrivare qui alla fine fatta questa cuscitura arrivati qua proprio nel punto prima dell'angolo tagliamo il filo lo sfiliamo e facciamo la solina di chiusura quindi entriamo qui nel nell'ultimo punto prendiamo il filo rientriamo qui dove siamo partiti prendiamo il filo e ce lo tiriamo così realizzando lo stesso tipo di angolo a questo punto facciamo passare il filo fra le maglie e lo nascondiamo e lo andiamo a tagliare e a bruciare un pochino con l'accendino e quindi attaccare direttamente alla lavorazione terminato tutta la lavorazione il portamonete e portacarte il portamonete e portacarte risulterà così guardate che carino semplicissimo ma molto carino pieghiamo il portamonete e ci resta solo l'applicazione della chiusura quindi io utilizzerò questa chiusura è più piccolina rispetto alle altre però voi potete utilizzare anche quella più grande ed è a cucitura dobbiamo inserire una parte qui sotto e una parte sopra stando ben attenti a inserirla nella parte centrale quindi cosa facciamo prima dobbiamo assicurarci dove quindi se io decido di mettere la chiusura in questo punto qua sotto la posso posizionare tranquillamente in questo modo quindi se io entro con l'uncinetto questa è la parte centrale contiamo 1,2,3,4,5,6,7 mi vado a posizionare nella quarto se lo voglio mettere qua guardate prendo il punto e questa la devo posizionare in questo modo poi mi vado a contare le maglie 1,2,3,4,5,6 da una parte 1,2,3,4,5,6 dall'altra quindi questo è il posto esatto quello lascio l'uncinetto che mi fa capire dove e prendendo ago e filo inizio a fare la mia cucitura li cuciamo prendendo una piccola maglia da una parte cucendo prima la prima parte passiamo di sotto la seconda potete farlo anche con il filo di nylon che è invisibile oppure con un filo che sia diciamo dello stesso colore delle portamonete portacarte che state realizzando prendiamo ago e filo teniamo così la nostra chiusura e iniziamo la lavorazione prendendo un pezzetto di cordino ed entrando nel primo foro della chiusura facciamo un po' di giri un 3,4, anche 5 in una passiamo all'altra all'altra ancora fino ad arrivare all'ultima la stessa cosa facciamo con l'altro pezzo di chiusura dalla parte di sopra quando abbiamo terminato ci rivediamo e vediamo insieme l'apertura e la chiusura del nostro piccolo portacarte e portafogli e vediamo il lavoro terminato dopo aver applicato le chiusure chiudiamo guardate e questo è il portacarte portamonete portafogli finito piccolino guardate che simpatico accanto alla borsetta e quindi perfetto per l'interno della nostra clutch quindi un bel coordinato ora proviamo ad inserire così con questa scusa vi faccio vedere l'altro che ho realizzato sul rosso guardate che bello prendiamo carte e soldi li inseriamo qua dentro chiudiamo ed è pronto per inserire nella nostra borsetta qui come vedete ho messo la mia targhetta passi un uncinetto voi potete sia inserire una targhetta una decorazione qualsiasi come invece lasciarlo così semplice spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video qui si 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 Grazie.